Come detto nel video precedente, ovvero nel capitolo precedente dell'iniziazione umana e solare di Alice Bailey, questo è il diagramma che spiega la gerarchia planetaria e solare. Partiamo da quest'ultima. Come vedete abbiamo il Logos Solare che ho evidenziato col colore giallo. Dal Logos Solare deriva la Trinità Solare o Logoi con il Padre, volontà o potere, il Figlio, amore e saggezza e lo Spirito Santo, intelligenza divina, che noterete o colorato di azzurro. Abbiamo poi i sette raggi di cui i tre raggi di aspetto sono stati colorati di viola e i quattro raggi di attributo sono stati colorati di verde, che sono armonia o bellezza, conoscenza concreta, devozione o idealismo, magia cerimoniale. Ora analizziamo la gerarchia planetaria. A livello di gerarchia planetaria abbiamo visto come il Logos planetario si incarnò sul nostro globo assumendo la forma di Sanat Kumara, che pertanto possiamo assimilare al Logos Solare, quindi sottolineato di giallo. Al Sanat Kumara discendono i tre Kumara della Trinità Solare, i Buddha di attività. I sette raggi corrispondono ai riflessi dei tre raggi maggiori e dei quattro minori. Quindi, ora vediamo i tre capi dipartimentali che vi ho segnato con il colore arancione. I numeri romani, 1A, aspetto volontà, 2B, aspetto amore e saggezza, e 3C, aspetto intelligenza. I tre aspetti che si ripetono da quelli della gerarchia solare. Ora continueremo la lettura del nuovo capitolo in cui verranno analizzati questi aspetti. Vediamo nel diagramma, in basso a sinistra, la scritta arancione, Manu. Ebbene, il Manu presiede al primo gruppo. È chiamato Vaivas Vata ed è il Manu della quinta razza radice, l'Ariana. Egli è l'uomo o pensatore ideale e rappresenta il tipo della nostra razza ariana. Avendo presieduto ai suoi destini fin dal suo inizio, risalenta quasi centomila anni fa. Altri Manu si sono succeduti. In un futuro relativamente prossimo, il suo posto verrà occupato da un altro. Egli allora passerà ad un lavoro più elevato. Il Manu, o il prototipo della quarta razza radice, opera in stretta cooperazione con lui ed ha il proprio centro di influenza in Cina. È il secondo Manu della quarta razza radice, succeduto al precedente durante gli ultimi stadi della distruzione della civiltà atlantidea. Egli è rimasto per promuovere lo sviluppo del tipo di quella razza e per determinarne la scomparsa finale. I periodi di attività dei Manu si sovrappongono in parte, ma attualmente non esiste alcun rappresentante della terza razza radice. Il Manu Vaivas Vata dimora nelle montagne dell'Himalaya ed ha riuniti intorno a sé, a Shigatse, alcuni che sono in immediato rapporto con le vicende ariane in India, Europa e America, nonché coloro che più tardi si occuperanno dell'avvento della sesta razza radice. I piani vengono preparati con grande anticipo. I centri di energia vengono formati migliaia di anni prima che siano necessari. E dalla saggia prescienza di questi uomini divini nulla è mai lasciato all'imprevisto, ma tutto muove in cicli ordinati e secondo la regola e la legge, sebbene entro i limiti karmici. Il Manu opera prevalentemente in rapporto ai governi, alla politica planetaria e alla creazione, direzione e dissoluzione dei tipi e delle forme razziali. A lui è affidato il volere e il proposito del logos planetario. Egli sa quale sia l'immediato obiettivo per il ciclo di evoluzione che dirige e la sua opera consiste nel fare in modo che tale volontà divenga un fatto compiuto. La sua cooperazione con i deva costruttori è più stretta di quella del suo fratello, il Cristo, poiché è suo compito stabilire il tipo razziale, isolare i gruppi dai quali le razze si svilupperanno, dirigere le forze che producono mutamenti nella crosta terrestre e far emergere o sommergere i continenti e dirigere le menti degli statisti di tutto il mondo affinché il governo della razza proceda nel modo desiderato e si producano condizioni tali da fornire ad ogni tipo quelle necessarie al proprio sviluppo. Questo lavoro può ora essere notato nell'America nel nord e in Australia. L'energia che fluisce attraverso il Manu emana dal centro della testa del logos planetario e giunge a lui attraverso il cervello di Sanat Kumara il quale focalizza in sé stesso tutta l'energia planetaria. Egli opera mediante una meditazione dinamica condotta nella testa e produce dei risultati grazie alla perfetta comprensione di ciò che deve essere compiuto con il potere di visualizzare ciò che deve essere fatto per giungere al compimento e grazie alla sua capacità di trasmettere energia creativa e distruttiva ai suoi assistenti. Tutto ciò è realizzato con il potere del suono enunciato. Vediamo ora l'opera dell'istruttore del mondo, ossia del Cristo. Ebbene, il secondo gruppo è presieduto dall'istruttore del mondo. Egli è il grande essere che i cristiani chiamano il Cristo. In Oriente è noto come Bodhisattva o Signore Maitreya ed è colui che i maomettani attendono con il nome di Imam Mahdi. È colui che presiede i destini della vita da circa 600 anni avanti l'era cristiana, venuto poi tra gli uomini e di nuovo atteso. È il grande Signore d'amore e di compassione, così come il suo predecessore, il Buddha, fu Signore di saggezza. Attraverso lui fluisce l'energia del secondo aspetto che gli giunge direttamente dal centro del cuore del Logos planetario tramite il cuore di Sanat Kumara. Egli opera per mezzo di una meditazione centrata nel cuore. È l'istruttore del mondo, il maestro dei maestri, è l'istruttore degli angeli. A lui sono affidati la guida del destino spirituale degli uomini e lo sviluppo in ogni uomo della coscienza di essere un figlio di Dio e figlio dell'Altissimo. Come il Manu provvede il tipo e le forme per mezzo dei quali la coscienza può evolvere e raccogliere esperienza, rendendo in tal modo possibile l'esistenza nel suo senso più profondo, così l'istruttore del mondo dirige la coscienza interiore nel suo aspetto vita o spirito, cercando di risvegliarla entro la forma affinché a suo tempo quella forma possa essere eliminata e lo spirito liberato tornare al luogo da cui provenne. Come riferisce in modo quasi esatto il Vangelo, per quanto non manchino errori né dettagli, da quando lasciò la terra, egli rimase con gli uomini dai quali non si è mai realmente allontanato, ma solo in apparenza. Coloro che conoscono il cammino possono raggiungerlo, incarnato fisicamente, nell'Himalaya, dove opera in stretta cooperazione con i suoi due grandi fratelli, il Manu e il Maa Chuan. Quotidianamente egli riversa la sua benedizione sul mondo e sotto il grande pino del suo giardino ogni giorno al tramonto. Egli leva le mani a benedire tutti coloro che veramente e seriamente cercano e aspirano. Tutti gli sono noti, e sebbene si possano esserne inconsapevoli, la luce che egli riversa stimola i loro desideri, alimenta la scintilla di vita protesa nello sforzo ed incita gli aspiranti fino al grande giorno in cui si troveranno faccia a faccia con colui il quale, essendo stato innalzato in senso esoterico, attira tutti a sé quale iniziatore dei sacri misteri. Arriviamo al terzo gruppo. Il terzo gruppo è presieduto da Maa Chuan, il quale conserva tale funzione più a lungo dei suoi due fratelli per diverse razze e radice. Egli è la totalità dell'aspetto intelligenza. L'attuale Maa Chuan non è lo stesso che assunse tale carica alla fondazione della gerarchia nell'epoca Lemure, cioè nella terza razza, ossia uno di Kumara o Signori della Fiamma che si incarnarono con Sanat Kumara. Egli ha assunto la propria mansione durante la seconda sottorazza della razza radice atlantidea, ovvero quarta razza. È raggiunto l'adeptato nella catena lunare e per suo tramite molti degli attuali uomini più avanzati vennero in incarnazione a metà della razza radice atlantidea. Essere affiliati a lui carmicamente fu una delle cause che favorirono e resero possibile tale evento. L'opera del Maa Chuan consiste nell'alimentare o rafforzare il rapporto fra spirito e materia, fra vita e forma, fra sé e non sé, rapporto che produce ciò che noi chiamiamo civiltà. Egli utilizza le forze della natura e della sorgente da cui emana l'energia elettrica quale noi la conosciamo. Essendo il riflesso del terzo aspetto o creativo, l'energia proveniente dal logos planetario fluisce a lui dal centro della gola ed è lui che in molti modi rende possibile l'opera dei suoi fratelli. Essi li sottomettono i loro piani e i loro desideri ed egli trasmette le istruzioni ad un vasto numero di Deva. I tre grandi signori rappresentano dunque la volontà, l'amore e l'intelligenza. Il sé e il non sé e il rapporto fra i due vengono sintetizzati nell'unità della manifestazione. Il governo della razza, la religione e la civiltà formano un tutto coerente e così si ha la manifestazione fisica, l'amore o aspetto desiderio e la mente del logos planetario che si esprimono oggettivamente. Quelle tre personalità sono in stretta unione e cooperazione e nella loro prescienza unita esiste ogni movimento, ogni piano ed evento. Essi sono in contatto quotidiano con il Signore del Mondo a Shamballa e tutta la direzione è nelle loro mani e in quelle del Manu della quarta razza radice. L'istruttore del mondo dirige sia la quarta che la quinta razza radice. Ciascuno di questi tre capi di dipartimento dirige un certo numero di attività complementari e il settore del Macho-an è diviso in cinque parti in modo da comprendere i quattro aspetti minori del governo gerarchico, come potete vedere dal diagramma. Sotto il Manu operano i reggenti delle differenti parti del mondo come ad esempio il maestro Jupiter, il più anziano dei maestri che attualmente operano in corpi fisici per l'umanità, il quale è reggente per l'India e il maestro Rakoxi, reggente per l'Europa e l'America. Ricordiamo che sebbene il maestro Rakoxi ad esempio appartenga al settimo raggio e dipenda perciò dal dipartimento di energia di Macho-an, pure nel lavoro gerarchico può operare e opera temporaneamente sotto il mano. Questi reggenti tengono le redini del governo di continenti e nazioni e sebbene ignoti ne guidano i destini. Essi influenzano e ispirano capi e uomini di Stato, riversano l'energia mentale sui gruppi dirigenti, ottenendo così risultati desiderati ovunque incontrino cooperazione e intuizione ricettiva. L'istruttore del mondo presiede al destino delle grandi religioni, mediante un gruppo di maestri e di iniziati, i quali dirigono le attività delle diverse scuole di pensiero. Il maestro Gesù, il quale espira e dirige tutte le chiese cristiane, sebbene sia un adepto di sesto raggio appartenente al dipartimento del Macho-an, attualmente opera con il Cristo per il bene della cristianità. Altri maestri svolgono attività consimili in rapporto alle grandi religioni orientali e alle varie scuole di pensiero occidentali. Nel dipartimento del Macho-an, numerosi maestri divisi in cinque gruppi operano in accordo con l'evoluzione di Deva e con l'aspetto intelligenza nell'uomo. Essi sono suddivisi secondo i quattro raggi minori o d'attributo, ovvero raggio di armonia o bellezza, raggio di scienza concreta o conoscenza, raggio di devozione o di delismo astratto e raggio di luce o magia cerimoniale, come potete vedere nel diagramma. I capi dei tre dipartimenti rappresentano invece i tre raggi maggiori, volontà o potere, amore e saggezza, intelligenza attiva o adattabilità. I quattro raggi o attributi della mente, con il terzo di intelligenza sintetizzato dal Macho-an, costituiscono il quinto principio, la mente o manas nel suo complesso. Ci vediamo con il prossimo video.